siamo nella camera di amore psiche l'ambiente più suntuoso del palazzo per la ricchezza il pregio delle decorazioni che reca lo spazio assume il nome dal soggetto dominante affrescato la favola di amore psiche la favola l'intreccio narrativo prende il via dall'ottagono della volta dove rappresentata venere seduta su un cavo trainato da cigni e sprigiona la propria apoteosi nel riquadro centrale della volta dove giove unisce matrimonio amore e psiche due pareti la meridionale e l'occidentale raccontano i preparativi di un banchetto le altre pareti narrano di intrecci amorosi contrastati una scritta dedicatoria ci ricorda la funzione del palazzo la scritta dichiara onesto ocio post labore ad reparanda un palazzo dunque pensato e voluto dal principe federico secondo per i propri piaceri è talmente forte e profonda la meraviglia che suscita questa camera agli occhi del visitatore che l'illustre ospite carlo quinto d'asburgo qui presente in palazzo sabato 2 aprile 1530 quando giunge in questa sala ferma il proprio corteo e rimane sopraffatto per più di mezz'ora dalla magnificenza dell'arte di giulio romano